Adesso no, adesso siamo di nuovo sexy Dicevamo Probabilmente mi stava minando dei bitcoin il gioco Quindi non so, adesso vediamo Provate magari a farla voi Perché devono minare da noi bitcoin? Sì, per favore Cos'è, gioca? Gioco a nuovo gioco e la ostiamo? Forse Provo io, dai, aspetta Connetti al gioco Devo fare nuovo gioco, nuova partita Ah, non credo, Ciro Modalità di gioco, sopravvivenza Fuoco amichevole Fai no, che siamo in due centimetri Facciamo spento Fuoco amichevole Grazie, salusano Grazie, salusano Posso invitarvi però Link copiato degli appunti Eh, che vuol dire una sega, vuol dire Quindi ve lo devo riscrivere qui? No? Eh, il colo sarà il ID Perché mai ha copiato una stringa di Steam? Eh, perché sarà... Che cazzo ne so Link copiato negli appunti Sicuramente se lo clicco mi hackerano l'account di Steam Grazie Abel Grazie mille per il 21 Amici, mi raccomando, rinnovate Rinnovate, rinnovate Io vi copio l'ID Perché non lo so Se fai invito Ti copia un link Se fai copia ID gioco Ti copia un ID Che è quello che hai messo tu Tipo Vi metto un link Ma non so Perché mi hai dato questo link E questo ID Scegliete voi quale Provo a fare i giocati Wait for the game owner to enter the game and try again Ok, quindi provo Quindi vi entrava nel gioco Che succede? Sono nell'aereo? Sei nell'aereo? Provate Vediamo No, ancora mi sa Devi fare passare la... Ah, posso far tra gli agenda lì giustamente Devi far passare la cosa Devi cliccare il link, Marco Ah, io non ho preso i... Adesso Io ho copiato il... Ho copiato l'ID Ok, sono sulla zattera E se dello studio la F che è il gancio per prendere le cose Sei sulla zattera Sono sulla zattera Ma cos'è il Jason? No, ho saltato... Il coso dell'aereo l'ho saltato Perché ho visto che magari... Un tetra esploso ho evitato Di video Eh, magari guadagnavi qualche bitcoin, eh? Ah, che poca sensibilità Comunque sono sulla zattera uno per uno Letteralmente Non so, qui ancora dice... Che devo aspettare... Credo funzioni Vedi se c'è qualche impostazione... Beh, adesso provo, guarda Eh, immagino, Cor, molto divertente quella Cazin sicuramente Ma c'ha... Erai dato gatto? No No, credo sia il bug che... No, è quando aggiorni Sembra al doppio delle persone, so No, non ho nessun tipo di... Option Aspetta... Quindi non funziona Effettivamente Ho copiato l'ID di nuovo Ma... Ma l'ID ce l'hai già messo Ma non funziona neanche con l'ID Perché ho provato io Ho provato prima con l'ID e poi da lì L'invito è sempre uguale? Vi rimetto l'invito, magari è cambiato No, è sempre lo stesso Io sono sempre più dell'idea che ci abbiano preso qui Questa è una scammata effettivamente No, non funziona No Ehm... 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 Certo Moro Ehm... Non va? No Vuoi giocare tu? Non so, non mi sembra... Facciamo al volo una... Uno schermo condiviso? No, non mi sembra... No, non mi sembra... Il caso Ah... Play new game Almeno vedono qualcosa Noi intanto chiediamo il rimborso Non so Provo il rischio di minare bitcoin di nuovo? E ma cosa cambia? Marco, prova a farla tu Marco, prova a farla tu E ma cosa cambia se non funziona nessuno? Non credo funzioni Cos'era? Gioca, nuova partita lì è già? Sì, sì Copia link Fai copia... Invita Eh... Copie di gioco Invito Sì, sì Era facilmente intuibile che... Facciamo con Amaci Apro Amaci Vediamo un po' Sei già partito? Aspetta che c'è un caricamento Magari aspettiamo la fine Ok, vedi un po' Ma capata mi ha chiuso il gioco Terrificante questa cosa che sto guardando Purtroppo devo aspettare che entri nel game Ecco Ma perché magari c'è qualche sorta di tutorial iniziale Sensibilità non esistente Adesso... adesso arriviamo eh Un attimo che... Sicuramente un attimo di... Un attimo di... Provo... Intanto magari... Ho dato a entrare Tanto? No, non credo Tendi che proprietario del gioco entro nel gioco Se no... guarda sto già giocando C'è qualche tutorial... Il gioco è offline però dice Sì la partita credo intenda Aspetta provo a rifarla io rischio Chi non risica ragazzi non rosica Ma falla di single player a sto punto Ma non c'è il single... Non esiste il single player Marco Come no? Sì Fai nuova partita e giochi tu Eh sì Però non esiste il single player C'è la partita quella eh Eh però almeno vedo un qualcosa Allora... Tanto se non funziona a me, non funziona a Liezer Non funziona a te Direi che non funziona in generale Io schippo nel dubbio perchè mi cago addosso Quindi... schippo Tanto mi sveglio Vediamo adesso se riusciamo Vabbè rimborso adesso costava 4 euro Non è che il gioco costava... 4 euro Beh lo glieli da Più che altro è che... E' una bucina che funziona al gameplay Cioè che non poterlo multiplayer Ah vedi abbiamo il crafting Molto interessante Ma tra l'altro quando attiri a te con il gancio le cose Non te le mette nell'inventario quando arrivando a te Arrivando a te poi devi premere E A differenza di Rust Quindi se io tiro... Morca miseria che audio Ciao Ime! Come stai bella? Ah proprio le avvicini giustamente Ok Mi son preso bene eh Sto farmando le casse Grafica migliore di... Di Raft eh Questo è il mio passaggio Questo è il mio passaggio Non ve l'ho fatto vedere ma... Era questo Dovevo guardare i settings audio per favore Passaci il codice adesso che sei in Google Aspetta aspetta Sì sì è stata una bella vacanza Dov'è? Non c'è l'audio... Abbassare... Ah volume Che mi manca Francia adesso Dopo dieci giorni tutti i giorni assieme mi manca un... Passo il codice... Si sa mai eh che riuscite... Secondo me è perché effettivamente... Non ci stiamo qui quindi... Fatemi fare una cosa Prova di lagarlo un attimo Però non credo... Servono dei rugs Riprova... Attendi che il proprietario di gioco abbia la peste Moro per favore Un attimo... E la prendo subito Marco Ci mancherebbe Oh arrivo la squalo Lo guarda Facciamo in caso Allora ho trovato delle ragadi Sì Mi posso fare il martello E fatto il martello Adesso è tutto più semplice Un attimo che arrivo Ricordatevi stasera c'è FIFA Ci sono delle roppe E qui lo posso dire potrebbero effettivamente essere le ultime live Perché probabilmente settimana prossima non ci sarà Perché si sono 15 Sarà difficile No Sarà l'ultime live su FIFA 21 Perché tra poco esce il 22 eh Quindi non è che... No scusa il 23 Il contrario 22 e 23 Lo diciamo sempre è vero però... Infatti sempre Copium E tra l'altro lì vorrei fare Formula 1 invece Però il 22 costa ancora troppo Cioè costa il prezzo pieno in realtà Allora secondo me adesso se io Faccio la cosa più grande In che senso? Le iscrizioni del Fanta sono chiuse da... Due settimane ormai Quanta cazzo di roba ci vuole per fare... C'erano 7000 corde F1 2004 Non credo neanche ci sia multiplayer Ciao Luke Sium FIFA c'era il multiplayer sicuro è... Mandamelo qui Ciao ciao Luke Bellissimo Sei in vacanza Luke? Il Fanta è chiuso Non ho notato il fatto mi sa Cosa ho notato? Il fatto che ho sbloccato un secchio Le robe quelle lì Tra l'altro chi partecipa al Fanta controlli i messaggi che vi scrive Luke Il nostro Luke che... Sarà organizzando per l'asta Eh che vedevo l'altro giorno c'erano dei problemi sul fatto che non... Non fa vedere delle cose Che bello Dove? Cioè non notifica gli annunci Ah No ma corne ma son sopra l'acqua Non finirò mai sotto l'acqua figurati Brava Seneri brava Mi servono talmente tante alghe Devo fare almeno 4x4 Poi sicuro sblocco il multiplayer Sei in spiaggia Luke Beato te Luke Dove sei di bello? Tu vivi a Milano Sei in spiaggia sei a... Sei all'idroscalo Dove sei andato di bello? Bello in idroscalo Affascinante Beh non è bruttissimo C'è il parco che c'è il torno è molto figo Beh non... Sì beh Beh per essere un lago a Milano Per essere una cosa a Milano non è male Porca miseria Sanno che erano tutta la roba artificiale Ok Ah sei a Rimini? Ma pensa Ma perché venite a Rimini al mare? Io non capisco Beh i milanesi vanno a Rimini Ma perché? O Rimini o Licuria Sono le scelte di Milanesi Ma sai c'è anche il Veneto C'è... C'è sempre Maradriano Io andavo in Veneto Però tutto Io andavo in Friuli addirittura Ma non Rimini Cioè perché Rimini? Non è successo Sì tra tutto Rimini è peggiore Perché mi ha disconnesso ragazzi? Io di solito andavo in Friuli Che andavo l'Ignavo Sabbiodoro Cioè tra Veneto e Friuli Tra tutti penso che Rimini sia il peggiore Comun' È molto commerciale No ma poi... No non è molto commerciale Fa cagare schifo Cioè ogni mese c'è il... Allora Diciamo che se vuoi andare sull'Adriatico O vai più sul Veneto Friuli Tipo Lignano, Bibione Una roba del genere Oppure vai al Sud La Toscana In realtà è uguale No se vuoi stare sull'Adriatico O stai più a Nord Sì ma non è uguale Oppure vai direttamente al Sud Tipo Puglia Io ho visto tipo delle foto di... Esatto Iesolo, Bibione E' uguale a Cosenato No è uguale a Cosenato Provate a entrare Ho fatto più grande Adesso ci state ragazzi Adesso ci state sicuro Ho fatto più grande Il mare Veneto fa caccare Come fa caccare quello della Romagna ragazzi Vai lì perché è comodo Perché comunque sono belli nelle città Però... Non vai per il mare Se vuoi andare per il mare Devi andare dal centro Attendi per promettere il gioco Ed entra nel gioco Entra a sto gioco Allora Si Iesolo Iesolo il mare fa caccare uguale Vabbè chiudo e chiedono il borsa Non posso andare sott'acqua? Oh Aia Adriatico è bello in Croazia Ma me lo chiedevo con Franci Perché in Croazia è bello E da noi fa schifo Non si capisce Cos'è quest'acqua ragazzi? Ma... E' lo stesso mare E' dura l'acqua Eh Franci Allora E' vero E' lo stesso identico mare Però Ad esempio C'è la differenza Del... No C'è la differenza anche delle correnti Nel senso Quelle a nord del Po E a sud del Po No Già voi Vi siete scampati Le scherichi a colli Sì Ci sono andati con una settimana Quindi... Comunque E' rientrato dopo un giorno E' rientrato dopo un giorno Sì Poi tanti hanno detto Eh ma è una questione di... 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 Di cose... Turismo eccetera Però... Ovviamente non ci sono più stati... C'è ogni cazzo di anno Sempre Oh va bene Comunque direi che questo gioco Non si può giocare Menù Posto Exit Sì Sarà un'acqua molto densa Non lo so Era un po' dura Veramente brutta l'acqua Ma non vai nel... Non vai in Veneto E nella... Cioè in generale nel mare Romagnolo Così per il mare Però a prescindere L'ambare di Rimini così E' più inquinato appunto Perché ci scaricano più robe E poi perché tutte le schifezze del Po Tendono ad andare verso sud E sotto il Po cosa c'è? C'è Rimini C'è... Ti giuro in Croazia è come se fosse un altro mare Ma perché lì? No ho scritto perché Perché è tutto roccioso E non c'è la sabbia E le cose che trattiene E cambia Cambia molto sì Poi le correnti comunque fanno tanto E le correnti del mare fanno roccia Che te lo stavano chiedendo io Frangi Ma ci sono cose Ma anche tipo se vai nelle marche Tipo a Sirolo così Già lì il mare è molto più bello Perché è sotto la montagna Infatti tipo per andare giù nella spiaggia Ci sono le spiaggette quelle Praticamente dietro c'è la montagna Sono tipo dei buchi nella costa della montagna E per andare giù c'è tutto lo stradino Devi fare tipo un chilometro a piedi Di discesa per andarci E lì è bello effettivamente O ci vai con la navetta Con il traghettino Che ti porta nella spiaggetta C'è meno possibilità di Dal conero sì Però ovviamente se vuoi un bel mare Devi andare al sud C'è poco da fare E' legale questa cosa Perché quando chiedi la cosa qui su Steam Il gioco lo chiama proprio Raft Non lo chiama Anche lo stesso eseguibile Ma c'è stata una mattina C'è stata una mattina dove Anche sentendo dai vicini di Ombrellone Franci stessa Diceva Stamattina è bella l'acqua Grazie Giova E per loro è bella effettivamente in quel modo Io che sono stato giù per una vita Quell'acqua lì Cioè la loro acqua bella E' un mare di merda in Calabria Infatti ho detto Se devi andare al mare Piaggia e mare Devi andare al sud Se vuoi una città però Viva Che puoi fare tante cose Secondo me la Romagna E' molto A meno che non vai tipo a Tropea O a Soverato D'accordo Perché c'è tanta roba da fare la sera Però se vuoi il mare E la spiaggia bella Non puoi pretendere di averle in Romagna o in Veneto Devi andare giù Giù Ma per ovvi motivi C'è un mare più aperto C'è... Anche giù poi scaricano lo schifezze Io sono sicuro E' capitato nel mare tipo giù dai miei Forse anche lì momenti in cui scaricavano schifo eccetera Quindi non è che giù non lo fanno Semplicemente giù E' un mare più aperto E' una situazione diversa E... Ed è bellissimo insomma Quindi o vi cercate dei posti tipo Tropea Che però pagate tanto Perché Tropea è molto turistica Oppure... Sì anche Bibione Io ho visto le foto di Bibione E sembra la Romagna Sia il mare che il posto No il posto è identico Il mare... Allora il mare a nord Perché sono stato sia a Rimini sia a Lignano Che è vicino a Bibione Comunque il mare era leggermente migliore Perché è a nord E' diverso Non si becca lo schifo che c'è dal Po E poi è leggero E Sardegna Vabbè c'è un mare incredibile Io ti ho detto Il mare... Io per ora posso dirvi A parte che dal Po adesso non esce nulla Visto che è in secca Voi lo sapete quanto critico la Calabria Per un sacco di cose Essendoci andato Sì addirittura Il mare che sta entrando dentro il Po Il mare entra per 50 km dentro il Po Quando c'è l'alta marea Per 50 km è tanto eh Cioè lì distrugge tutto l'ecosistema Perché 50 km veramente rientra per un bel po' Arriva quasi a Padova Tipo roba del genere Ma io l'ho detto La Calabria la puoi criticare per un sacco di cose Ma sabbia e mare Sembra di stare alle Maldive Alcune mattine E' veramente una cosa incredibile Sabbia bianchissima Mare pulitissima Non c'è un'alga Non c'è un fazzoletto E' incredibile Purtroppo Grazie inzottri In città E' un po' Sono cose che non vanno bene Però Vogliamo fare un po' di baroni Non so E' l'unico che ho visto nella Nel Dexto No Diciamo Non so Non so Non saprei che cacchio fare Facciamo un erotraccato Così In scioltezza Adatto parliamo Possiamo fare anche da un pochino Facciamo un erotraccato Un po' così parliamo O Air Defense Force Eh no no Facciamo erotraccato Air Defense Force E' un po' sceso Quando abbiamo scoperto Che sono 110 livelli No vabbè ma infatti Abbiamo detto Lo teniamo da fare ogni tanto Quando ci va Falguiz domani Eh ho detto domani Falguiz Si perchè a mercoledì facciamo l'altro Quindi domani mattina Falguiz Falguiz No 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 Domani mattina Falguiz con voi Solito prima per i sub Poi in casa io Eh Cacio Sono d'accordo Cioè E' normale che Anche io stesso Ti ripeto Io andando in Romagna Quando per la gente della Romagna L'acqua è bella Per me non è bella per niente Perchè è piena di alghe Di robe E' Perchè sono abituati a quello ovviamente No due euro un pochino mi sparo Corvo di Turbo Golf Marco non ce l'ha scaricato Tra l'altro credo Ma è solo un cibo E' quel Rocket League Di gol Non era malaccia Non mi era dispiaciuto No no Mi sono divertito Ma si ma tanto chiacchieriamo Facciamo su Euro Truck Domani Domani si Facciamo Fall Guys Quest'anno c'è genatico C'era veramente Tante mattine In cui c'era la plastica In mare Proprio plastica Pezzi di plastica Per esempio A Franci non disturbano le alghe Grazie Dalm Grazie fatto Ma è Dalm Dalm Ciao bello Ciao Dalm E lo conosco io È un canale di fumetti Insieme ad un altro ragazzo Grazie Sicuramente l'avete Molto bello Grazie Grazie belli Si può rimandare mercoledì Fal Guys No mercoledì dobbiamo fare Chupoint Campus Grazie Raffiteo Mercoledì Perché domani Ragazzi esce Chupoint Campus Però esce a pomeriggio Sì Siccome fare un'ora soltanto alla sera È un po' pochino Per quel gioco Lo facciamo Lo facciamo mercoledì mattina Poi giovedì sera ragazzi Facciamo Cult of the Lamb Assolutamente E invece Mercoledì sera Invece facciamo Pummel party con Lino Entrate intanto Sì mercoledì sera Facciamo una pummelata con Lino Poi adesso Voleva giocarci Però c'è anche Corvo In realtà eh Se vuole giocare anche Corvo Poi no Non quel mercoledì Ma le prossime volte Anche a casa Corvo adesso Autoprofilo di E.T. dove la vedi? Scusami E.T. Cazzo dici? Sì Sembra E.T. A me sembra più Carlo Gabardini Vedi una mano in cosa Alec? Vuoi venire a giocare? Marco entri In questo merda di gioco Eh no Ma con la pece da un minuto e mezzo Non so che pece c'era Ma un minuto e mezzo di più No stai laggando Moro No Stai laggando tu che stai scaricando Scusi Ma non sto scaricando più Io sto entrando Eh vabbè un attimo di lagghettino Quando è collino mercoledì sera Oddio Glielo deve ancora chiedere Ma credo che non ci sia Avete lo vedi da me che è in posto Non credo ci siano grossi problemi Mauro Zanichelli tra l'altro Sì no ma anche lì siamo Cioè Genova Veneto Romagna Tu vai nel mare lì perché è comodo Ma se vuoi un mare bello devi andare giù Come si fa? No Marianne Se vuoi un mare bello bisogna andare giù È quello il discorso Poi magari sia un mare meglio di un altro Però comunque bisogna andare giù per un mare bello Partiamo da Parigi Come È il contrario delle montagne Montagne al nord E il mare devi andare al sud Anche ci sono delle belle montagne al sud eh Però Mentre se uno pensa la montagna Va sulle Alpi Quanti chilometri? Mille Almeno Mille? Sì va bene Non ho riuscito da sola Parisi Kiel Si seguita l'ufficio d'Alma Comunque il canale di Dalma ragazzi sicuramente vi è capitato Di Quale si chiama? È il mondo virtuale Diciamo che su TikTok è diventato famoso Famoso conosciuto Maga Davide Maga Che è quel ragazzo col cappellino È il mondo virtuale Sicuramente vi è capitato su TikTok Lui è Suo collaboratore per quanto riguarda la parte di YouTube Parlando di fumetti Sono molto bravi Ne sanno molto più di me Sono molto più esperti di me Quindi vi consiglio Ma non di me ragazzi Sicuramente Sono molto bravi Anzi più di una volta Mi è capitato di trovare Recensioni loro Di qualche fumetto Che io reputavo molto bello Che in altri canali Non si filavano Invece loro lo hanno trattato E infatti Mi sono stati subito simpatici Iniziate a seguire Poi ho scoperto che Dalma Mi seguiva già tra l'altro Sapevo Mi ha fatto piacere Cioè ci seguiva più che altro Se volete guardare Si chiama mondo virtuale Il canale YouTube Tanto Vector Se puoi bannare un attimo Korn che mi ha fatto cagare addosso Pensavo non ci fosse Non si vedesse niente Invece è solo stronzo Poi ti faccio il bonifico Va bene Dalma Fammi sapere 5-600 euro Allora Eh madonna Eh va bene Prendiamo meno Dai placement Prendiamo Credo che stiamo trasportando Eh Seni Credo seni Fammi vedere Si Carico Plastica usata Si E protesi usate Ah vedi Vedi Questi sono tutti quelli Che finiscono accesenati Plastica Plastica usata Stiamo Delle protesi Che gli sono cascate dai seni Alle signore Sto figo il canale youtube conferma Che Gianluca è andata a guardare qualche volta Ne avevamo parlato La condizione come va Si è risolta Sembrerebbe di si Sì Il problema è che adesso lui la vuole cambiare Un po' Spero che non faccia Non è che la voglio cambiare La sto già cambiando No si ma spero che non succeda all'inverso Si sa che se la cambia e succede il patatracca che peggiora Ma perché dovrebbe scusare Non so Non bisogna sempre metterle in conto queste cose Speriamo il top Ah tra l'altro ragazzi ho scoperto Non lo sapevo tra l'altro Ve lo dico anche a voi che magari Se avete la promozione con team Casa e telefono Cambiato operatore No aspetta a me che funziona A me che funziona Sì ma adesso anche a me funziona Ma pago comunque 55 euro al mese Quindi No io ne pago 44 E ho scoperto Team Unica esatto Non sapevo di avere internet illimitato Dovevo solo attivarlo Non me l'hanno detto Ma io ho Il telefono internet illimitato Ah no si ma spesso ormai fanno 40 euro più 17,99 pago Perché 17,99 sono Tu hai roba più bella di me Tu hai la Disney Si però pago 40 euro di base io comunque Io ne pago 44 Non ho il Tvision quello base Non quello fico Però mi hanno dato internet illimitato sul telefono Eh vi spostate Iniziate ad andare perché io non vedo Siete davanti al carico Ma no Io con team pago 29,99 No ma ho detto se avete sia il telefono Anche io all'inizio pure Si l'ho modificato Ok Poi ho aumentato a 35 E poi a 40 E poi ho detto A me è rimasto sempre a 44,90 Però appunto io ho anche il telefono Se non avete il telefono Non credo Tu abbia fatto il contratto inizialmente a 44,90 No inizialmente era 50 e qualcosa Dimestri 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 Ok No 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 era Ma perché era un vecchio contratto Infatti l'ho chiamato e ho detto Ma com'è che pago così tanto L'ho detto no ma tu puoi fare La fusione di Recaio Mi hanno fatto a 44 euro C'ho sia il telefono Sia a casa Però appunto c'ho anche Team Vision I miei hanno anche il telefono Poi proprio con le chiamate C'è a price E io ho i giga illimitati al telefono Non sapevo di attivarli i giga illimitati Infatti avevo ancora 20 giga Perché non me l'hanno detto Fondamentalmente l'ho scoperto io Però c'avevo i giga illimitati Con Timunga Si non mi pare esista la fusione di Recaio Tra l'altro Marco Credo che ho sbagliato E' sempre un Recaio Si è vero E' un Kaio E' un Kaio Shin E' un Kaio Shin Non è re Con la corona Neanche Recaio c'ha la corona C'ha la chi pa' E' vero La corona è comunque Che poi in realtà La fusione dei Kaio Shin E' un po' fasulla Visto che si fa un po' tara Si si fa un po' tara Che è più forte Si è più forte Dicono che è più forte Dicono che è più forte Gli vanno tutti Tirano l'acqua proprio un mulino ovviamente Devono venderle le cose Invece quella di Recaio A parte che è dura mezz'ora Non è Recaio Quella di Quella normale dura mezz'ora Quella normale dura mezz'ora Quella normale dura mezz'ora Fai solo la storia non finis' Ma è brutta la saga di Majin Buu Ma dai è brutta no? E' tra tutte quella più brutta secondo me Vabbè ma almeno finire la storia scusa Finire la storia non esiste Ma io non ce la farei a non finire i giochi così Il fatto è che mi ha smorzato un pochino anche Korn No ma se sei arrivato alla fine Mi ha smorzato Ma adesso magari lo finisco pure Però No mi ha smorzato un pochino Korn che mi ha detto Perché ero curioso un pochino dei DLC Ma mi ha detto come sono impostati i DLC E mi ha fatto cascare le palle E io non ce li ho aggiunti E io non ce li ho aggiunti Anzi mi ha detto praticamente E' solo grinding Tipo da arrivare a 50 livelli su E poi fare il coso E' un pochino E' una merda quella cosa li Ma toglia sei cosa? Però no a parte quello C'è la saga di Majin Buu Non mi entusiasma troppo Quindi sono un pochino così A me Majin Buu E' che secondo me dopo un po' l'hanno Come al solito No come dicevo io è che Majin Buu è piena 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 Cioè è lunghissima quella di Majin Buu Ha 7 miliardi di robe Troppe robe Eh si Che secondo me è una delle più deboli Però ti dico La parte iniziale Con lui malvagio Che però Ha dei sentimenti Con al satan Il cane A me quella parte di me era piaciuta tanto Poi dopo diventa Ovviamente Come Koryama poi ci ha insegnato dall'inizio Un continuo Dicela più grosso Sempre di più Eh ma non è il problema quello E il problema A parte A parte che il problema principale E' Gohan Perché Ci si è lasciati con Gohan Che era la cosa più potente La cosa più figa Cioè la Ma lui vuole fare il medico La Kamehameha Incredibile Padre e figlio Super Saiyan livello 2 E cose Non funziona appunto Incredibili Appena inizia la saga di Majin Buu Lui è un gran rincoglionito di merda Debolissimo Il medico E uno schifoso Non si è allenato per Un grande rincoglionito di merda Beh in realtà dopo ritorna più forte No Quando viene potenziato da Da Kaioshin diventa di nuovo il più forte Sì Come persona singola diventa il più forte Comunque una schifezza Tra l'altro anche quella cosa lì Mi ha sempre fatto Fastidio Perché lui gli sblocca di nuovo per l'ennesima volta il potenziale che Gohan ha dentro per l'ennesima volta Ma tra l'altro se lui si trasforma in Saiyan è più debole che stare normale Sì Ricordi che non si trasforma Il Gallo lo diceva perché era diventato talmente potente che era inutile Il Super Saiyan era diventato inutile Però è una cagata Perché tu Questa è proprio una roba che Questo Toriyama che come al solito è uno stordito e lo amo ma lo odio anche Che lui ha sempre detto che il Saiyan era la cosa più incredibile Il combattente della storia incredibile Poi ti va a nerfare i Saiyan dicendoti questa cosa Però cosa fa? Alla fine della saga di Majin Buu c'è il Saiyan di terzo livello Che non serve niente tra l'altro anche quello No serve È comunque al livello di Majin Buu quello forte Però lì nel terzo livello No non è che era tempo è che era talmente dispendioso di risorse Eh sì era come se fosse a tempo tra l'altro Si si stancava tanto Che era carina quella cosa lì Il problema non è solo Gohan è proprio una steen Non è bello È una saga sicuramente Che ha delle cose molto belle ma delle cose molto fastidiose Sono d'accordo Delle tre Delle tre probabilmente quella meno ispirata Però comunque sia Vec mi è cambiato la categoria A preferisco tutto ciò che sei nel sito Ok grazie Ma carne perché non ci dai più i soldi? Ma la smettete di chiedere i soldi che è una cosa terribile Aspetta Liettor che ce la faccio a girare No comunque si sono d'accordo che sia quella meno ispirata Seppur il design di Majin Buu lo trovo Ma quella meno ispirata cioè non è neanche troppo vero Perché comunque ci sono super fendenti E che c'è troppa roba non è che è troppo poco ispirata Un po' di trasformazioni di trama Cioè dopo che arrivi da Freezer che vabbè era Hitler e va bene così Cell che tutto il viaggio nel tempo tutte quelle cose lì Arriva Majin Buu che inizialmente era molto carino Poi è diventato solo un... C'è quello sempre peggio Perché c'è Buu malvagio poi c'è Kid Buu E poi Majin Buu diventa buono Poi dopo c'è l'essenza di Majin Buu che è coso E lo ricicciano fuori in... Come si chiamava Lieda Hub? Ma quello poi... Allora il fatto... Poi è anche lì che mi dà fastidio che Dragon Ball Z finisce effettivamente lasciandolo aperto La storia Perché non chiude Grazie Quentin Che poi l'hanno chiusa con GT Che in realtà poi non è vero Perché adesso non è più canonico Quindi teoricamente rimane aperto Cioè il finale... Allora il finale di Dragon Ball Z Considerando che sia successo super È sbagliato No Perché teoricamente il Goku va via con Hub Per addestrarlo ma in Super non c'è C'è in GT della cosa lì Ma il GT non vale più Non vale più No credo ci sia in Super eh C'è Hub in Super? Sì ma non è... Ha detto che esce fuori adesso C'è una macchina poverina Ah ok quindi... Io l'ho mollato Super Dopo due saghe però sì Ma quando la... Ma scusa ma il Dragon Ball Z Super non inizia subito dopo la fine dello Z? Non credo subito dopo Quindi quando l'ha allenato Non mi pare... I bambini sono ancora piccoli Ma i bambini gli Ezra sono cresciuti adesso in Super Quindi lascia perdere quella cosa lì Però l'inizio di Super Etericamente Goten e Trunks Non mi ricordo Adesso Moro sono cresciuti un pochettino Goten e Trunks Eh non mi ricordavo Non mi ricordo Adesso dopo anni sono cresciuti Prima dell'ultima puntata di Z Ah quindi erano decanoni dazzato anche L'ultima puntata di Z L'ultima puntata di Z non esiste Quindi Ubbe non esiste Praticano C'è il torneo Tenkaici finale Dove incontrano Ubbe Non esiste quindi Ok... Allora... Sto mischiando manga e anime Perché è un casino Può aver senso Però vuol dire che hanno distrutto anche il finale di Dragon Ball Z Adesso mi faccio una lettura di Dragon Ball Z Perché? Perché c'ho voglia No, non lo fare Pan appare... In realtà Pan appare solo in GT No, c'era la fine di Dragon Ball Z Sempre nel torneo Ma se hanno cancellato il torneo Sì, esatto Comunque Super non mi ha mai preso Vediamo Attualmente nella storia canonica di Dragon Ball Non esiste Pan Super inizia con Golden Freezer Anche lì poi E io l'ho mollato Cioè A me la cosa di Freezer Mi ha dato veramente fastidio Non ce la faccio L'ultima puntata di Z è canonica Semplicemente super coperta Tra la sconfitta di Buu e il torneo con Ubbe Perché devi toccare Freezer per la terza volta? Per la terza Perché la prima volta Perché la prima volta è ok quella bella Poi torna col papà Poi dopo viene sconfitto di nuovo Dopo c'è il ping con cooler Che comunque bene o male la stessa cosa Torna adesso lo ritocchi di nuovo Lo fai gold e addirittura quasi Sembra che possa diventare mezzo buono Ma c'è veramente una roba che io non Non capisco Però vabbè Dovevo fare Pan esiste e ancora In senso Videl è ancora incinta Quindi esiste ma non c'è Però è strano Quindi vuol dire che hanno cancellato la parte finale di Dragon Ball Z Ma comunque l'hanno tenuta Cioè nel senso hanno fatto un discorso Grazie a Kane Hanno cercato di giustificare Ragazzi a Kane Allora comunque ho cercato di giustificare il finale di Dragon Ball Z Però un po' Vabbè ma perché se parli di Dragon Ball è impossibile non tirargli merda Cioè Dragon Ball ci piace solo perché è parte di noi Ma cioè non puoi Non si sta muovendo il tizio Sono bloccato al casello perché un tizio non va avanti Eh vabbè Marco si vede che non hai soldi Super è tra Dokobu e prima del torneo finale È vero perché il torneo finale Porca miseria è vero Perché il torneo finale di Dragon Ball Z Era dieci anni dopo Sono bloccato per sempre Mi pare Perché effettivamente c'era Pan E Goten e Trunks erano già adulti O comunque ragazzi più grandi Ma ti ho ringraziato E quindi Loro hanno semplicemente coperto Con Super hanno coperto Quei dieci anni intermedio Ok È vero Non mi ricordavo più che il torneo Tenkaki finale Era dieci anni dopo Mi sembrava fosse subito dopo Eh no c'era Pan Sì c'era già Pan è vero C'era Pan Piccolina Sì era piccolina Ovviamente avranno avuto il figlio dopo Però c'erano Goten e Trunks Ma Pan e Super Saiyan Era una roba su GT o era una roba famosa Non è mai esistente Ma in realtà i Super Saiyan Femmine non sono mai esistiti Tranne i Super I Super li hanno introdotti Ma prima non esistevano i Super Saiyan Femmine C'è Dragon Ball credo sia la cosa più sessista Eh sì sì ma Infatti dopo hanno cercato anche un pochino di rimediare Ma non mi ricordo se non c'erano perché effettivamente non potevano diventarlo oppure semplicemente Poi cioè su Super in un universo parallelo era il contrario mi pare Sì mi ricordo ho visto quelle scene lì che c'erano C'era Broly femmina e robe del genere Sono tante cose che sono indicate Ma chi è Relegata in cucina Punto e basta Videl Videl che Videl che Prima no La donna forte così poi diventa una madre a tempo pieno Deve solo cucinare e stare zitta Eh ma C'è un oracolo Egregio, aspetta, un oracolo, entro la fine della... ci sarà un argomento a cui posso contribuire o ne devo andare? Zesty, però se non sai un grande cazzo di niente, eh, fammi vedere, aspetta Quando parliamo di cibo e non va bene, va via Aspetta, hai problemi con le cose a forma anellica, Zesty, eh, insomma Grazie Rose, grazie della tier 2 Rose, grazie mille Comunque Ciccio non è l'unica donna a Saiyan Adesso devi studiare, Zesty, ma... Mi ricordo che Vegeta e Bulman hanno anche una figlia Sì, ma non esiste Il Dragon Ball è veramente popolare Tecnicamente la Saiyan pure lei, eh Esatto No, no, sei fantastica, Zesty, solo che Dragon Ball è veramente una delle robe che se non sai parlare di Dragon Ball io non so proprio come introdurre Sì, ci sono, Ciccio, c'è la figlia di Vegeta Devi studiare, infatti, seguire live, da interessata, studi, impari... Ma magari guarda che hai fatto Scopri anche di avere delle passioni, magari C'è una dichiaratura di cazzo guardare le live solo dove sai le cose, perdonami e... Io guardo le live e imparo Per esempio, ho scoperto di apprezzare ogni tanto, non sempre, dei video di manualità Gente che monta mensole, che monta dozze, ma... Non mi inter... Ecco lì io quando apro facebook Però ogni tanto quando mi capita il video lo guardo, lo cerco lì a guardarli Quando... quando apro facebook succede C'è, per carità, devo fare una mensola Non sono un grande manovale Non sono un grande manovale C'è nel senso, sì, ma nel tras... cioè non... Non è sbagliato, manovale sì Non sono un troppo un... un tutto fare io, perché non ho mai... Vabbè, allinei l'angax Tanto il PC ti funziona, eh Comunque Ma l'avete montato alla fine? Sì, sì Che l'avete fatto? Ha funzionato il primo colpo? Sì, sì Tra l'altro ragazzi, volete sapere che troppo non funziona la tastiera e il mouse nel suo PC? Vabbè, quello è il meglio Probabilmente lo sapete già ragazzi, ma vi devo rompere qualcosa Eh Mi è capitato un TikTok in questi giorni, spiaggia Di un tizio che fa vedere che tutte le campanine degli indiani, quelle che ci guardiamo fatti con la creta È tutto organizzato, è tutto finto, fintissimo Il 90% delle persone Praticamente c'è proprio una regia dietro con delle persone che gli danno dei pezzi che non prendono idioci, credevo invece Ma il 90% delle cose che vedi così sono tutte finte Ma c'è proprio uno staff dietro le riprese delle telecamere Ma magari all'inizio no Ma non credo C'è la regia è tutto per forza di cose Però è Ma si vede proprio delle persone dietro che gli passano anche dei materiali, delle cose Eh buongiorno, io non lo sapevo ragazzi Eh beh, ma tipo il mattone seco, roba così Però quando fanno la buca e le cose Il lavoro lo fanno, lo sono bravi veramente Lo fanno, cioè non c'è un escavatore Grazie molto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Se qualcuno vede video veloci non ci fanno Non sono video in cui effettivamente presto attenzione a queste cose qui per carità di Dio Ma la maggior parte delle cose così sono tutte finte O comunque organizzare Magari l'inizio no Magari le prime volte no Però quando noti anche l'aumento della qualità è tutto perché poi diventa un po' carità Secondo me no Eh, secondo me è massimo all'intimo io Sono una mente così Ma non è vero Marco, è giusto come non pensavi prima Ma si parla è che intrattenero, cioè l'obiettivo intrattenero Però perde, Marco Si perde molto Perché il TikTok non è finto quello lì? No, perché si vede Si vede, anche l'altro lo vedevi eppure No, ma lì vedi le vedele qui Eh un po' qui Alex è vero Perché effettivamente da quello che mi ricordo attraversavano Cioè facevano proprio delle buche dove attraversavano delle rocce E non puoi farlo a mano come fai Cioè è ovvio che hanno dei macchinari o roba di un genere Ma io vivevo nel mio mondo e andava bene Eh perché peraltro sono video talmente veloci Sono video talmente veloci e tagliati Che non ci fai capo Cos'era questo ponte bellissimo Ma allora in realtà non disboscavano le foreste mi fanno O si No, mi ricordo che prendevano Tipo il bamburo, beh così Che facevano i palli, i tetti Bambù effettivamente si Ma non è vero, si Dragon Ball Super è uguale a Dragon Ball Z No, no ragazzi No, io non sono d'accordo Io poi mi sono fermato una certa Quindi non sono nelle ultime saghe Allora io non l'ho guardato Io guardo tutto il torneo Il torneo degli universi lì Quello lo so Ed è uguale Cioè Cosa cambia da Dragon Ball Z È esagerato come Dragon Ball Z? Però dico però è uguale È quando torna a far la figura di merda Nella saga di Cell È solo nell'anime però, nel fumetto non c'è Non mi ricordo Nel fumetto sul sicuro al 100% non c'è Non so se è una cosa dell'anime Non arrivano a quei livelli Secondo me dovete riguardarlo Perché secondo me Sono esagerate già in La maggior parte dei filler kagosi Sono solo nell'anime Nel manga non ci sono Ma la parte della patente mi pare ci sia anche nel manga Il Cyber Freezer È quando torna col padre Quello è un'altra cosa La cosa della patente c'è nell'anime Basta C'è anche nel gioco Ma questo è uno stronzo ragazzi Quello io dico sempre Perché la parte più bella è Goku quando è piccolo Perché è la vera essenza di Dragon Ball Vabbè ma quello è proprio una roba diversa Ma quello è proprio una roba diversa Marco Cioè Dragon Ball Quello è Dragon Ball Dragon Ball Super Dragon Ball Super si chiama Dragon Ball Z Super In teoria mi pare Eh ma Dragon Ball Z secondo me Infatti è già il momento di Toriyama Che stava impazzendo E Super è solo il E ma è peggio però Ma secondo me però non ha senso Tirare merda a Dragon Ball Super E non ha Dragon Ball Z Ma in realtà la tirano anche a Dragon Ball Z Sì non è vero Allora tirano adesso perché Se è entrante la gente Deve pensare comunemente che sia una merda Però C'è piaciuto a tutti Dragon Ball Z Ma perché Moro quella lì Era la prima volta che tu guardavi quelle cose lì Eh va bene Anche se esagerate te le facevi andare bene In Super è l'ennesima potenza di quella cosa lì Non è l'ennesima potenza Eh porca vacca Cioè i colori dei capelli 27 diversi La gente che torna è quasi Ma non è vero Guarda che c'è il Dragon Ball C'è il Super Saiyan God Che è il Kaioken praticamente Poi c'è E appunto Quindi stai ritirando una cosa di prima Va bene Ma è anche Dragon Ball Z E' tutto così secondo me Eh ma infatti era la parte brutta Eh ma E' tutto quello Cioè tu stai prendendo le cose che In realtà Dragon Ball Z però le trovo molto ripetite Cioè non è che riprendeva No non riprende Però sono cose del cazzo esagerate E su Dragon Ball Super fanno la stessa roba Cioè il discorso che anche Per me è più o meno la stessa cosa Il discorso che anche prima c'erano degli errori Sono d'accordo Il problema è che appunto tu all'inizio Te li facevi andare bene Perché eravamo più piccoli Perché eravamo più piccoli Certo Il più piccolo era la prima volta che li affrontavi Però è Se marchi la matita ancora Ma non è marchi E fare la stessa cosa Semplicemente non ce la fai più Perché sei più grande e capisci le robe Però è uguale a Dragon Ball Z Ma è uguale Ma secondo me è ancora peggio di Dragon Ball Z Non è uguale Cioè è uguale nel senso che Lo stilema è quello Io l'ho guardato Io l'ho guardato ed è E mi ha gasato come prima Però effettivamente Facciamo le stesse cacate Cioè non Ma io non metto in dubbio che possa piacere poi questa cosa qua Io semplicemente Ma certo ho detto ok Non è più per me C'è Virus C'è Virus che È praticamente Majin Buu Nel senso che è un cattivo stupido È stupido Nel senso che poi Però è talmente forte che Te ne sbattiamo anche il canto Ma ho letto Hanno scritto che Virus Cioè si è scoperto che Freezer Ha distrutto il pianeta Vegeta Perché gliel'ha detto Virus Quindi Cancelli anche tutta la storia Che lui aveva paura di Saiyano controvi Cioè se veramente hanno detto così in super Vuol dire che cancelli la storia di Z Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Così hanno scritto il chat Così hanno scritto il chat Io sono contentissimo di essermi fermato al punto Hanno detto così? Cioè vuol dire che cancelli il motivo per cui Freezer aveva attaccato il pianeta Vegeta Perché aveva paura effettivamente di Saiyano Ma guarda che l'Eazar Freezer lo vogliono fare Lo volevano far diventare Poi l'ho mollato Hanno distrutto Freezer Lo volevano far diventare buonino Freezer Ah no avevo visto delle immagini che partecipavano insieme al torneo Assumevano Freezer Sì Freezer diventava un partecipante al torneo Cioè Dopo che hai già fatto questa cosa con almeno Tre personaggi diversi Hai già fatto questa cosa con almeno tre personaggi diversi tra cui Vegeta Allora diciamo che la retenzione di Vegeta però ci sta Ma l'Eazar l'hai già fatto con piccolo L'hai fatto con Vegeta Adesso ho voglio che con Freezer Con Piccolo Con Majin Bu Con Majin Bu Quante volte devi usare lo stesso Anche Majin Bu combatte nel torneo Ah di quello non lo so Vabbè Majin Bu Vabbè ma in Z Però lo giustifano in Z perché divide l'anima in due Sì però capisci che stai Beh ma giustificano qualsiasi cosa eh Vuole veramente poco Stai usando per l'ennesima volta il cattivo che in realtà non è così cattivo Tecnicamente Piccolo non è mai diventato buono in teoria Cioè Piccolo Beh però comunque te lo fanno apparire buono Cioè Vegeta non è mai diventato buono tecnicamente Al cento per cento no Moro però ti fanno vedere che si affeziona No non è vero non te lo fa mai vedere il problema è quello Però rimane di Z Non è vero gli Ezra No Vegeta quando mai? Allora quando Innanzitutto quando si sacrifica per salvare Bulma E quando si esplode Quando si fa esplode Alla fine però Cioè semplicemente scopa Bulma non si sa per quale motivo Ma sono comunque personaggi che da cattivi diventano Buoni o comunque Si Però forzatamente Ma certo che forzatamente E quello mi sono sulle balle di Dragon Perché ho detto non ce la faccio più Super è tutto quello che stiamo dicendo Ma di nuovo e quindi non ce la faccio io personalmente L'ho mollato Junior che diventa buono È diventato buono di punto in bianco perché Beh più o meno Semplicemente ha alleato un attimo per sconfiggere Sam Perché lui doveva sconfiggere Goku Poi si è appassionato a Goku Poi ne è sbattuto più un cazzo Lì si ricordo che Anja era più strutturata Ma Vegeta per me Io ricordo Il grande mago piccolo è l'essenza del male Vegeta di un punto in bianco ha incintato No Allora Vegeta a parte Allora all'inizio All'inizio della saga di Cyborg era ancora cattivo Tra virgolette cattivo Poi pian piano quando si allea con il figlio arrivato dal futuro Che quando ad esempio No no All'inizio della saga di Cyborg Lui già viveva dentro casa di Bulma Sì ma era ancora cattivissimo Era ancora Cioè il suo obiettivo era sempre quello di uccidere Goku Che non sapeva dov'era Grazie Ultrim Grazie mille Grazie Ultrim Sì ok ma poi Quando c'è Cell che uccide Trunks Nel torneo Che si incazza perché ha ci son figli Lì inizia già a diventare un po' più uomo Ma lì perché è già successo il patatrack Cioè perché lì già ha incintato Bulma di tutto in bianco Però ci ha messo un po' a diventare buono Cioè non è istanzato Sì ma per me è inconcepibile che abbia fatto sesso con Bulma Non aveva mai senso quella cosa lì Non lo so Vabbè lì è il... Probabilmente magari l'omoforte Che ne so l'omoforte Che ne so Ce n'è di problemi lì Ce n'è di problemi lì Ce n'è di problemi Che ha fatto... Che ha voluto fare un figlio per avere uno forte come Gohan Comunque io lo dico sempre ragazzi Ma però scusi Dragon Ball Dragon Ball secondo me lo dovrebbero leggere tutti Perché comunque ha dato il via un sacco di cose Leggere, non guardare l'aria Leggere Ma perché ha dato il via un sacco di cose E poi è anche bello Dragon Ball Cioè ha un sacco di punti veramente Sì però dobbiamo analizzare la testolina di Toriyama Sicuramente provi un sacco di robe che non lo so Ma infatti Infatti io dico Cioè per me non ha senso Additare Super come la peggior schifezza del coso Perché per me non è così tanto distante da Dragon Ball Z Cioè per me Io per esempio Per me è inguardabile Infatti io l'ho mollato Però ci sta che uno mi dica A me piace Perché volevo rivivere quelle emozioni E lo visto Io mi accollo uno che sta seguendo con passione Dragon Ball Super Perché dico Cioè almeno Fino alla fine del torneo degli universi Almeno Mi sembrava così Tanto merda Cioè la merda solita insomma Poi dopo non lo so Però vi assicuro che Se vi ha Se riuscite a guardarlo con gli occhi Di quando avete guardato Dragon Ball Z Di casa Allo stesso modo Io Io non ce l'ho fatta per dire Io ho mollato Però posso Cioè Alla fine ci sta Lì vi vidi Phil Se ti ricordi Oh mio dio dovevo girare Mojgus credo Da quello che ho capito Mojgus non può curarlo Non poteva curare Goku Non poteva curare Goku Mi pare che lo giustificano Sì 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 Anche io mi ricordo Anche io mi ricordo Il drago non può fare tutto Il drago non poteva guarire Goku Ecco perché è arrivato poi Trunks con la medicina Però anche quella roba lì è una cazzata Trunks non faceva raggiungere il tempo Lì è la trama che decide E' una cazzata E' una cazzata però Ci devi fare Le regole le fa Toriyama Poi ci puoi stare o meno Se lui ti dice il drago non può guarire problemi di cause naturali Tu dici va bene A punto da rampa veramente Poi se la cambia in corso d'opera questa motivazione è un altro discorso C'è un'altra cazzata È crashata tutta Vabbè rientro adesso tranquillamente Si fa Tanto mi ha fatto una schermata che sembra che fosse esplosa alla scheda video C'è un'altra cazzata tutta Vabbè ragazzi ma ripeto Secondo me Dragon Ball è importantissimo e fondamentale per quello che sono stati gli shonen Ma ci sono shonen più completi Addirittura il nickname con Eurotran Ciao Maxim Accettati i progressi eh Eh l'ho accettati Che poi ripeto Per me Dragon Ball è un capolavoro fino a una certa Io fino alla saga di Freezer per me Non ci sono più Ma per me anche fino a fine sella secondo me Però ammetto da Ma togliendo la mia anima da fan di Dragon Ball Devo ammettere che secondo me ci sono poi Shonen che hanno dato di più di Dragon Ball Scusami che hanno più coerenza ai Dragon Ball Detto questo Dragon Ball dobbiamo comunque ringraziare e baciare i piedi a Toriyama Perché non ci sarebbero stati tutti gli shonen dopo Non in questo modo quantomeno Invece Dragon Ball ha settato comunque delle situazioni Ah no sono dal meccanico giusto? Lo stesso One Piece One Piece che in tanti punti è molto più coerente ai Dragon Ball Senza Toriyama non ci sarebbero stati un sacco di cose Kreeley in realtà da tutti che dicono che muore sempre In realtà muore una volta in meno di copo Ma muore più Yamco credo Yamco è già un meme di sua Ah Kreeley muore con il grande mago piccolo Dovrai pagare una penale di 12.000 perché? Hai accettato i burguessi? Eh non la togliamo Eh non la togliamo Eh non la togliamo Eh non la togliamo Perché stai abbandonando No sto accettando il tuo loco con rio Non devi accettarlo Ce l'hai già Ah quindi devo fare qui Sì fai qui Allora Kreeley muore con il grande mago piccolo Con freezer Sì E con la fine Maginbu perché li uccide tutti No Eh sì beh Uccide tutti ma Insel muore Si teletrasporta da Recaio muore un po' No Quello è Goku No 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 Quello che è morto di più però Ma si vabbè ma non è quello il problema Cioè me io me la collavo anche le risuscitateSSD varie chi se ne frega sembra che sia morto mille volte la verità c'è allora in dragomall comunque sia un senore sì certo un porta via se molte esagerazione va bene va bene nel senso te lo guardi perché ti diverte anche per queste cose qui forse fosse successo in un altro show nel magari mi faceva più strano però in dragomall sinceramente sarà che facciamo le due volte gli amici amore semplicemente con i saian e alla fine quando vogliono tutti praticamente e che moriva la fia messi ok tv demora di più ma è mai una volta solo in più condotto il gelo mi ricordo dottor zero cosa succedeva e tre das grazie mille cosa vuol dire no non muore col dottor non muore viene viene salvato al pelo con i fagioli fagioli di zenzu ma dove sono i miei amici ah sono la marco dove cazzo è perché per sentire se andava il condizionatore ho sbattuto contro un camion si ma sei in un'altra mappa e ne lo so ha messo sempre c'è la velocità ridotta sempre ciao ciao doglia ciao doglia infatti non abbiamo mai detto che glielo vuole con lo sara no goku non può rubare neanche goku vuole con lo sara io avevo capito che parlava di goku parlasse di goku prima gli addom non si troppo veloce no i am ci hanno un muore con il dottor gelo viene ferito a morte ma viene salvato dal disco in senso contro il senso a me muore si muore lì e muore alla fine come tutti altro vi consiglio di leggervi vita da yamsa ragazzi se vi capita lo trovate in fumetteria veramente molto divertente molto carino è uno spin off molto divertente su yamsa dove c'è un fan un mega fan di dragon ball 1 ma insomma un nerdone come noi che ne stiamo parlando che si ritrova nel corpo di yamsa a combattere durante mi pare proprio la saga di cyberman ed è molto molto carino come spin off molto divertente soprattutto da comunque a me gt è piaciuto anche a me a cane gt c'ha le sue cose belline che secondo me c'ha anche le sue cagate come gt è carino si ha le sue cagate non è per l'intero ricordo riscrivendo una cosa che era già successo mi ricordo solo la prima parte quello che era figa a me a me faceva la roba che le sfere del drago di quella parte lì me la ricordo pochissimo quella era interessante cioè i nemici nemici erano i sette ma sì sì mi ricordo che le sfere diventavano i draghi ma me la ricordo che mi ricordo la prima parte la prima parte tantissimo per sé di quarto livello era un figlio grazie rocca forse la prima parte dei viaggi nei pianeti forse durava un po' troppo a me anche solo il fatto che qualcuno era tornato piccolo e quello era un po una merda però mi aveva dato un piccolo mi ricordo faceva c'era l'avevano fatta per c'era figo vederlo che si trattava super saian da piccolo ma alla fine si no è che l'ho già visto a me a me a me da piccolo era un po ma scusami ho fatto rifornimento ma è comunque pochissimo il personaggio non so noi che hanno detto dragon ball funzionava prima riproponiamolo però non no ma basta riproporre le stesse fratelli parabara che era la stessa identica cosa della squadra gilio io non capisco perché funziona una cosa riproponiamola ma ha funzionato basta la promozione ma c'è lo spin off del capo della squadra gilio che alla fine era diventato una rana poi cosa succede no no mi pare che la rispondevano quella cosa lì a no muore perché effettivamente esplode il pianeta no 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 allora nell'anime e nell'anime si ritrovavano nell'aldilà in realtà quelli della squadra gilio insieme a freezer e selva no tranne coso che era nella terra ma nell'anime si vede che sulla terra quando vengono trascurati tutti nel banca non si vede quando vengono quando vengono quando trascurano tutti e nell'anime non era freezer e selva sarà morto poi più avanti di quanto è la vita di una rana a me si sarà morto perché è morto la rana durante il combattimento di majin bu che si vedeva per un attimo quelli dell'aldilà che guardavano le cose non nel manco anche la squadra gilio non è ma l'anime tutto diverso l'anime infatti l'anime fa cagare i dragono viene trasportato sulla terra nel ma nell'anime viene quando mandano tutti sulla terra con le sfere viene trasportato anche lui perché viene considerato effettivamente fa schifo se lo andiamo ad analizzare però nel manga non c'è sta cosa nel manga non esiste che viene trasportato anche sulla terra se il grilletto mi è rientrato nel joypen ragazzi nel manga si vende che viene trasporto viene trasformato in rana e poi sparisce e allora niente è morto allora perché esplode una meca teoricamente esplode una meca teoricamente non si vede dovrebbe essere esploso con una meca invece nell'anime si vede proprio là mi ricordo la scena della rana che scappa via per un attimo diventava bullman si c'era quella cosa che ti faceva il congegno che i ragazzi era una cosa linea non esiste ma io non c'ho messo per poi il benzinaio io sono arrivato con il benzinaio e non c'è la benzina ho chiesto del rifornimento ma non è la patente best episodio no ma tutto l'anime di dragon ball appunto se devi starci a vedere fa cagare tutti siamo cresciuti nella menzogna di dragon ball noi però vabbè è andata così però ricordiamo con affetto lo stesso e poi tanti nomi il tempo li chiamano ma c'è stato di peggio no l'anime anche io non me lo riguarda ho tamponato gli izzar proprio letteralmente però non ho segnato non rileggerei al massimo tasto 11 ma con diarrea fotonica hanno fatto tutto nelle scorse no è una menzogna a cane l'anime si non li ha fatti a cane no perché non li ha fatti a cane ma non li ha fatti neanche torriamo ai fill da quello che ho capito i fill li mettevano semplicemente perché l'anime stava raggiungendo il manga e quindi dovevano sono si chiamano filler apposta sono rimanente semplicemente distanziato ci sono in naruto probabilmente sono approvati da toriyama ma non li ha fatti voi ma poi ripeto quello che ha provato toriyama prendetelo comunque con le pizze perché toriyama non stordì sbagliato ragazzi ci facciamo 200 chilometri facciamo un napoli a roma andiamo a consegnare della coca gt è proprio un uomo c'era fatto da chi aveva lavorato in drago ma non era suo io marco finchè non ti avvicini il microfono a te non ti si sentirà mai comunque no ma c'è sempre quel problema lì che si è perché c'è il microfono lontano no ma credo che sia qualche impostazione che non si capisce qual è ci abbiamo sempre guardato eh lo so però sembra veramente quella ma che all'inizio non lo faceva quando non giocava o c'è qualche è perché c'è il microfono lontano solo vuole avvicinare il pezzo di cacca di più Marco qua così no 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 così no però non ti si sente respirare Marco è che tu parli dalla parte opposta del microfono però senti vedi no vedi senti quando parlano gli altri gli cancella la cosa quando parlano gli altri l'ho già appurato e bisogna capire qual è questo problema di Zarno non lo so appunto ci deve essere qualcosa in qualche impostazione non lo so perché però in sé fa questo caso no però ad esempio prima quando non giocavamo non succedeva probabilmente è qualcosa che giochi non mi paragonate non scrivete per i tale paragonato a qualsiasi shonen perché bisogna che devo fare hai preso l'altro Marco prendilo anche tu aspetta che devo riaprire il gio questo problema è il gatto ma non siamo su TS no su TS ma poi siamo su Discord non è mai successo poi effettivamente su TS lo fa questo problema? no e allora è un problema di Discord no no è un problema di Discord è qualcosa che non va su Discord su TS non esiste questa cosa per me possiamo usare anche TS ma vabbè non ci dà il permesso di andare no ma va bene ormai voglio piuttosto ce ne prendiamo uno ma spesso li danno anche te li tirano nella schiena anche su Discord adesso anche con la stream e roba così ci rimane comodo anche per quello però non riesco a entrare nel convoglio non mi fa unire da Moro aspetta hai ancora il viaggio vecchio io l'ho mollato io l'ho mollato a me dice che ce l'hai ancora no sei non online perché non posso? i DLC ce li ha installati boh lì per quello non prendete un altro e Corners adesso vediamo ma adesso vediamo parto Marco mi pare di aver capito che purtroppo è un problema di situazione cosa è? Roma non puoi dire Psyco quello che hai scritto perché per i giapponesi sono canonici i Kinder perché non lo sanno alcuni giapponesi ma chi segue l'opera lo sa ma il Kinder va considerato canonico nell'anime nell'anime è comunque canonico canonico non vuol dire un cazzo sono filler e non servono a niente quindi puoi canonizzarlo quanto ti pare non cambia niente tanto non serve puoi tranquillamente canonicizzare non serve a nulla tanto la frase per i giapponesi è canonico non vuol dire niente cioè se tu segui l'opera sai dividere le tue cose se non la segui la segui superficialmente non lo sai come? la team? ma no sarà per il sondaggio per sapere se è andato tutto bene se lo fa Toriyama lo è cioè se loro ti dicono c'è dietro Toriyama è canonico ma non credo dubito che il GT è canonico ha detto di no Toriyama stesso quindi il dubito a me non l'aveva fatto lui ma no vedi bisogna iniziare prendere il stesso lavoro no ce la faccio no non giochiamo con altri ma anche se non l'ho fatto Toriyama ambio questa cosa non la sapevo sinceramente anche perché Dragon Ball Z non penso l'abbia fatto tutto Toriyama cioè lui si però non credo tutto quanto cioè avrà avuto dei collaboratori della gente che ha scritto delle puntate delle robe e lui gli ha dato via libra semplicemente le persone che sono pagate per fare l'adattamento quindi per tutta che non ci sia ma teoricamente gli stessi collaboratori poi hanno fatto il GT da quello che mi ricordavo anche perché Toriyama è un mangaka non è un animatore voglio dire ci sono gli adattamenti che fa le robe devi prendere un buon adattatore per l'anime ma c'è l'adattatore dovrebbe aver già messo a meno che non è uno stronzo che essendo Marco è anche probabile per carità però ce l'hanno guardato no no ma vi avevo elencato esattamente e l'aveviamo anche guardato dopo mi streami Marco ma mi pare l'avevamo già fatta questa cosa a meno che non la riproviamo metti caso che nel dubbio cecchiamo e pocket adesso è un casino comunque GT non è mai uscito il manga poi sì è uscito è uscito il manga cioè il manga che praticamente è il contrario sì è il contrario hanno riadattato cioè non è finito tra l'altro mi pare molti anime non rispettano il manga Gekko perché comunque trasporre qualcosa da manga ad anime non rende bene cioè da una cosa manga non è animata non c'è non ci sono cose 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 così quindi magari spesso devi riadattarle per renderle belle perché magari non funzionano spesso spesso semplicemente fanno cagare perché dipende cosa intende che non rispettano se semplicemente aggiungono i filler perché magari lo fanno in tutte e quale credo che cambino altre cose proprio ci sono degli chi fa l'adattamento fa cagare semplicemente non ha letto non sa nulla delle cose nel quanto riguarda Dragon Ball semplicemente hanno aggiunto solo i filler il resto è tutto uguale credo solo nel per allungare il brodo perché avevano raggiunto il manga ci sono invece della gente che fa gli adattamenti che è molto brava tipo l'attacco di giganti è abbastanza fedele uno dei più blasonati è Ping Pong che ultimamente è andato un sacco l'hanno apprezzato tutti che ha adattato Ping Pong perché è fantastico l'anime esatto per esempio Slam Dunk ai tempi fino a una certa presero poi dopo interromperò a metà l'hanno interrotto non si sa perché Slam Dunk non finisce l'anime per dire Olly e Benji è tutto sbagliato non è tutto sbagliato ma hanno sbagliato tante cose grazie Giandone ma Beck quello di Tekken si Beck l'hanno interrotto anche con la metà come si chiamava l'allenatore di Warang il maestro di Warang era Beck grazie Samuel che ha regalato la sabba grazie Samuel che restituisce il favore visto che gli era stato regalato ci scuola grazie mille grazie grazie GTO si interrompe a metà Slam Dunk si interrompe a metà Beck si interrompe a metà ah è Bike era oh le luci che era era il maestro di di Warang dopo c'era anche su Tekken 5 mi pare non mi ricordo mi sa se il prossimo Tekken peserà 200 giga come il 7 non vedo perché no Moro eh non so picchiaduro da 80 giga pesava di quando è Tekken 7 ormai sarà 7 anni fa si sul 7 mi pare ormai ci siano il vecchio anime di Fometan anche visto non va bene se dovresti vedere quello nuovo per avere le cose si pocket solo dal giveaway erano tolte si probabilmente forse era un po' troppo 100 euro se avete a sto punto se volete un gioco al day one forse vi conviene di più se avete un gioco appena uscito se volete un gioco al day one non lo prendete dal no però se è un gioco appena uscito forse è meglio attualmente vabbè comunque se non avete proprio nulla da richiedere una card va sempre bene va bene hai capito si ormai bellissimo Fullmetal Alchemist ragazzi mamma mia che shonen pure quello mamma mia dire che è uscito il teaser di Tekken 8 è un pochino da stronzetti secondo me si è un teaser però proprio un'immagine dalla faccia di Kazuya proprio il teaser all'ennesima potenza è la nuova edizione di Fullmetal Alchemist si è bellissima la vorrei recuperare anch'io solo che sto già seguendo tante serie ragazzi però è bellissima veramente bella poi con le costine con tutti i numeri è bellissima secondo me è un teaser più che altro per dire che lo fanno vedere secondo me lo fanno vedere alla Gamescom secondo me lo fanno vedere alla Gamescom o al massimo il topo di Gamescom no non ho visto la serie Resident Evil non mi interessa neanche troppo Davide vabbè tranquilli Davide sì Hunter Hunter in teoria dovrebbe ricominciare a scrivere ma se ricomincia a scrivere come le ultime volte mi pare che l'ultima volta avesse scritto solo poche robe e poi era andato via di nuovo confermatemi in chatting mi pare che fosse tornato poi è andato via subito di nuovo non lo so Stemmer farà vedere anche al Tokyo Game Show secondo me però c'è ancora qua ecco ciao bella ho visto che eri in mezzo ai boschi tu ho visto anche io bello era l'orrido di Sossano dove è andata lei mi pare questo weekend Mark sei a Milano tu? non lo so in realtà sai sarò tra Monza e Milano vabbè comunque a prescindere mezzo no che se magari vado a quel posto di sushi buono dito lo dico se poi io vuoi unirti eh dai questo poi vediamo sempre che riusciamo ad andare che adesso siccome rinizzano le partite di calcio lì il mio amico deve lavorare a Sky io sabato appunto mi sa che andiamo a fare picuniku con amici roba così su per il monte al posto della solita insalata di riso mi sa che ci facciamo i poker l'ultima volta ci siamo fatti l'insalata di riso proprio classica si con Franci mi sa che e i tramezzini poi non so cosa ci fa spero che sia bello perché da quello che ho sentito il weekend non proprio messo la pioggia domani e dopodomani no ma anche questo weekend ho detto che il weekend sarà bellissimo poi vediamo più che altro probabilmente sarà doveva diluviare qua questo weekend non ha fatto neanche probabilmente sarà freddissimo diciamo che fa meno caldo in questi giorni no sarà meno caldo lassù sarà gelido ricordiamoci che adesso pian piano le giornate iniziano a accorciarsi stiamo andando verso l'autunno troppo ancora c'è tutto agosto no sì però le giornate si accorciano cioè si dotta già che arriva buio un po' prima da noi doveva piovere un sacco non ha fatto niente a Milano e qua in Brianza zero proprio ah io adesso che sono tornato può piovere quanto vuoli doveva diluviare un sacco niente ma ci vuole un po' d'acqua qua veramente tutto secco ora tramonto intorno alle 20 sì di solito in pienestate tramonta alle 21 e 30 22 perfetto io sono arrivato due chilometri eccellente sì ha piovuto più in Piemonte poi no sul montagna ha piovuto un sacco e anche in Veneto l'avevo letto che ha piovuto un sacco cioè ha proprio saltato Milano proprio la zona di Milano è stata saltata complicamente sì lì in Piemonte ho visto che ha piovuto un sacco ora ne dobbiamo prendere i biglietti cacchio di vola da l'aereo è meglio che niente da noi proprio zero cioè ha tuonato per tutto sabato ma non ha mai più avuto ci sentono tuoni costanti per ore ma non ha mai più avuto da me è nuvolicchioso adesso c'è il sole ma non si sta male non fa caldissimo c'è un po' più di umidità quello sì ah perché in città appena c'è un attimino di roba c'è subito umidità è il motivo per cui è insopportabile stare qua l'estate un po' sì che vuol dire quest'anno ci stanno l'anno che è abbastanza bene con umidità non c'è mai stata elevata l'umidità io mi sto lamentando molto meno degli altri anni perché ho il pinguino altrimenti sarebbe stata la mia morte no ma in realtà comunque come dicevo l'altra volta c'è sempre un po' di aria quindi non c'è mai così tanta umidità come gli altri il mio problema è che non passa tra la mia stanza sì è un dettaglio è il motivo per cui mi sono lamentato poco però effettivamente senza il pinguino non sarei sopravvissuto io quest'anno a fare le live era impossibile e poi ci stavo pensando oggi in realtà allora quest'anno c'è stata quella settimana lì forse due settimane erano di caldo allucinante che effettivamente anche io l'ho sofferto tanto quest'anno la settimana scorsa no due settimane fa sì due settimane fa no beh più beh oddio anche la settimana scorsa no no ci sono state due ondate di caldo era due settimane fa che ha fatto l'ondata di caldo quella pesante il resto il resto era normale sì non era eccessivo cioè era caldo perché era caldo però era caldo estate estate normale dipende secondo me in città lo sentono cioè in città si muore secondo me sì però come di solito città stasera FIFA sì a Cainis sì di solito in qui in Brianza abbiamo sempre due o tre gradi in meno rispetto a Milano città io sono in Brianza ma sono in città ma il problema è che ci sono più di 28 gradi proprio normale non è beh minchia 28 gradi eh ma costanti il problema è che il problema è che di Sera non scende sotto i 25 qua da noi ed è un problema che non scende sotto i 25 anche in piena notte eh boh da me il problema il problema più grave non è il caldo il problema è che non piove da noi non piove da inizio anno quello ok non stava letteralmente piovendo da inizio anno è quello il problema grave da noi sono 30 gradi da maggio eh ma 30 gradi l'estate vabbè i 30 gradi finché rimangono 30 gradi non è un problema è quando arrivano i 40 no è che ci sono da maggio il problema non che vabbè maggio ormai maggio è considerata estate ma ormai è considerata estate perché c'è qualcosa che non va sì c'è qualcosa che non va perché una volta maggio tu ancora eri bene o male un attimino maggio sì di solito c'è 20 22 il problema è proprio quello che tu da maggio hai 30 gradi non sono i 30 gradi che parte da maggio quindi sono 5 mesi costanti sì ormai la primavera si è ridotta a un mese probabilmente e anche l'autunno sarebbe bello 20 gradi io voglio andare in un posto a 25 così ti puoi godere pure anche un pochino di mare 25 25 con un po' d'arietta costante alla sera che scende a 15 10 è perfetto ah mi ha già dato il rimborso eh Steam sì sì no in Giappone il mese d'agosto è terribile perché ci sono 40 gradi c'è l'ubilità al 90% in Giappone dai video che hai visto sono anni che c'è l'umidità la gente scappa dal Giappone perché l'umidità là è allucinante solo in agosto però è allucinante è indiribile poi è anche questione appunto di abitudine c'è gente che vive in Florida voglio dire quindi va bene così però Florida non cioè è un caldo che c'è sempre ma non è così tanto cioè no no sono 60 gradi Giazzar ma non è no il cazzo sono le paludi Giazzar in Florida no ok non è secco per niente però il fatto è se tu nasci lì è mortale semplicemente è mortale semplicemente ti abitui in Florida con umidità dell'85% aspetta sono proprio hanno le branchie loro sono nati lì hanno le branchie è come quelli che vivono è come quelli che vivono nella foresta amazzonica cioè o intorno alla foresta amazzonica cioè lì è ubita 100% costante e che si è abituato semplicemente io voglio andare in un posto freddo o come quelli che vivono in Siberia che sono abituati a stare sempre sotto zero cioè anche lì non è che sia al massimo ma io però riuscirei a gestirla di più per il mio corpo vabbè questa è una cosa personale uno vi potrebbe dire io invece non lo so che se vivi costantemente a meno 40 a meno 30 non lo so quanto sia se non ci sei abituato dalla nascita non so quanto sia però tra i due preferirei avere meno 40 che più 50 grazie fare non credo stessi tu sia del canario grazie dei 32 in caso complimenti che raffreddare esatto se io se io ho tanto freddo qualcosa la posso fare in qualche modo anche per l'ambiente è più facile riscaldare che raffreddare se ho 50 gradi in città io mi ricordo l'anno scorso quando era successo anche banalmente era gente che chiedeva aiuto banalmente anche per riscaldare lo sai fare anche con metodi di sopravvivenza raffreddare non lo puoi fare raffreddare per forza usare robe tecnologiche sì tecnologiche il caldo lo puoi fare col fuoco se ci sono metodi per soffrire meno il caldo ma non per raffreddare effettivamente è una cosa naturale che va ti fai di clou che va perfetto sì amichi fatemi uscire a questo gioco di meoda da schifo installo eh eurotraco disinstallo subito ecco qua fatto disinstallato ci vediamo oggi pomeriggio in realtà con la live extra per i sub no io no mi raccomando ci sarà il nuovo Worms che temperatura ideale aspettano 20 gradi tra i 20 e i 25 hai detto scusa che non ti stavo cacchando no che oggi c'era il per i sub che farà moro con il nuovo Worms ah sì 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 e poi stasera con FIFA il nuovo Worms se vuoi dare più false speranze alla gente beh il nostro canale è nuovo l'abbiamo mai fatto io l'ho giocato io l'ho comprato oggi perché non ce l'avevo quindi l'unica persona nel mondo tra l'altro che non ce l'avevo non so perché amici ci vediamo verso intorno alle 16 allora che la farò intorno a quell'orario lì ma canale ha detto che c'è controlla moro dopo guardo controllo elenco spettatori intorno alle 16 vediamo un pochino devo giusto perché devo farmare robe per poter creare le partite ben bene ciao a tutti ciao a tutti belli a dopo